Non deve essere piacevole per una squadra reduce da due sconfitte consecutive trovarsi in svantaggio in apertura di partita. Il Carpi ha avuto però la forza di reagire e di far suo l'incontro. Risultato sbloccato dopo nove minuti, la Carrarese sfrutta un'incertezza della difesa emiliana. Sturba per Fermanelli che insacca con sicurezza. Il pareggio dopo tre minuti, punizione di Protti, Gizzardi non trattiene il pallone, Corrente firma l'uno a uno. Sedicesimo, punizione in favore dei Toscani, Rivi tocca per Bugiardini, il Carpi trema ma è solo montante. La squadra dei Ciaschini riflette sullo scampato pericolo e spinge sull'acceleratore. Trentacinquesimo, una segnatura dovuta all'astuzia di Protti, l'attaccante bianco-rosso, ruba palla al portiere toscano e infila in mezza rovesciata. Partita piacevole anche nella ripresa, il Carpi legittima il vantaggio con una tattica accorta al trentacinquesimo arriva il 3-1, angolo battuto da Vessella, Cevoli prolunga di testa per Protti, che insacca con un tiro al volo.